Musica Nessuno si aspetti quando arriva a Piccapane nelle campagne di Cutrofiano di trovare stand allestiti con peperoncini piccoli e piccanti. Non c'entrano nulla con questa sagra che sembra uscita dritta dritta dagli anni settanta. Qui si celebra non uno dei tanti cibi tradizionali del Salento, ma un modo di pensare laterale e alternativo, simboleggiato dal nemico per eccellenza, la sagra del diavolo. Perché dedicare una sagra al diavolo? Ma non abbiamo dedicato una sagra al diavolo, in realtà non ci dedica nessuno a una sagra allora ce la dedichiamo da soli. Il diavolo non è inteso ovviamente con retroscena satanici, queste cose qui, assolutamente. Si vede dal programma in maniera molto chiara. Solo che nelle solite sagre, belle comunque, alle quali io partecipo pure con piacere, si dà spazio insomma a delle realtà artistiche un po' ridondanti senza offendere nessuno. Un po' mainstream diciamo. Un po' mainstream del Salento. I performer si sprecano con ali d'angelo e trucchi da diavolo. Artisti da strada che traducono le proprie installazioni fra gli ulivi della masseria. Un mercatino di dischi in vinile che sembra uscito direttamente da una discoteca post-Woodstock. Mostre fotografiche, esposizioni di pittura e tutta una galleria di immagini. Che c'è chi definisce vintage e chi semplicemente datata. Si vede molta, quello che potremmo chiamare un po' cultura underground, cultura alternativa. Sì, la parola alternativa adesso è un po' avanzi degli anni 70, come devo dire. Avanzi degli anni 70? No, io non credo che ci siano avanzi. C'è un modo di pensare e di vivere la vita che in alcuni momenti ha più importanza, va di moda. In alcuni momenti magari è in calo o più in ombra, ma certi modi di pensare, di vedere, di ascoltare, di sentire le cose stanno sempre lì. Voglio dire, noi apparteniamo a quella parte di persone che hanno certi determinati gusti, certi determinati sensibilità, che non odiano quello che c'è intorno, però ad un certo punto devono organizzarsi queste cose per sopravvivere. Il luogo in cui la sagra più underground dell'estate si produce è anch'essa un monumento al pensiero alternativo. Piccapane è un'azienda agricola specializzata in coltivazioni bio e un agriostello, che offre esclusivamente cibi vegani ed estranei alla filiera industriale. Tanto che la macchina e lo zucchero filato, arrivata qui per la sagra del diavolo, viene guardata con una certa ostilità, contraria com'è alla filosofia del luogo. Sul palco sistemato sull'Aia si alterrano performer di ogni genere. Ad attirare il pubblico, che ha pagato un biglietto per essere qui, c'è soprattutto il live dei Muffics, band della scena musicale salentina specializzata in progressive rock. Nell'attesa Luigi Bruno, leader della band e organizzatore della manifestazione, si esibisce sul palco con lo scrittore Livio Romano, passato direttamente dalle pubblicazioni per la casa editrice in Audi a un reading accompagnato da basso e chitarra. Sono un uomo elegante e ho scritto tre libri tradotti in sei lingue. Mi disse il capo che il primo aveva venduto 13.000 copie e, caro il mio signorino, è un successo clamoroso ed è perciò che l'ufficio diritti è già al lavoro per Franco Forte e ci piacerebbe venire se anche tu vuoi incontrare gli editori stranieri che vedrai, vedrai, franto la visita per comprarti. Mi pagarono un volo in business, una camera con idromassaggio e i fiori freschi sul ciavotino. C'è un pubblico vario e inaspettato per una manifestazione del genere. Tanti, ma non solo, cinquantenni nostalgici, ma moltissimi ragazzi, diverse famiglie mescolate ai tanti fricchiettoni per l'unica sagra, come reggita lo slogan, che non pizzica ma morde.